Sicurezza significa proteggere ciò che ami. Ivry ti aiuta a farlo grazie a una serie di servizi dedicati a te. Quando lasci la tua abitazione vuoi essere certo che tutto sia sotto controllo? Ivry collega il tuo sistema di allarme con la sua centrale operativa, la più grande d'Italia, e inserisce tutte le informazioni che possono servire in caso di necessità. E se non hai ancora installato un impianto di allarme, puoi farlo Ivry, offrendoti un servizio completo sin dall'inizio. Se nella tua casa scatta l'allarme, il segnale raggiunge la centrale operativa, dove gli uomini Ivry, presenti 24 ore su 24, sono sempre pronti ad attivarsi. Con il servizio di pronto intervento su allarme, l'operatore chiama la tua abitazione. Nel frattempo, parte subito una pattuglia mobile che raggiunge la tua casa in pochi minuti. In più, gli uomini Ivry sono assegnati sempre alle stesse zone, per avere una conoscenza familiare e capillare del luogo. Sul posto, le pattuglie mobili controllano l'esterno e l'interno dell'abitazione. Se si è trattato di un falso allarme, compilano un verbale, in cui troverai i dettagli di quanto accaduto. In caso di particolare necessità, viene allertata un'altra delle 600 auto pattuglie Ivry presenti sul territorio. L'operazione viene coordinata con le forze dell'ordine. Abiti in una villa o in un'abitazione isolata? Scegli i nostri servizi di ispezione. Una pattuglia Ivry effettuerà controlli sistematici all'esterno o all'interno della casa, nelle modalità e nelle fasce orarie da te richieste. E in situazioni particolari, come in caso di allarme guasto o effrazione, puoi anche richiedere il piantonamento speciale. Una guardia presiderà la tua casa e i tuoi beni finché sarà necessario. Per un'offerta di servizi ancora più completa, Ivry e i suoi uomini sono al tuo servizio anche in caso di incendio, mancanza di energia elettrica e se perdi le chiavi di casa. Ivry sa sempre come starti vicino per proteggere la tua tranquillità e darti la sicurezza che meriti.